Buona e santa giornata a tutti, buon sabato e buon fine settimana. Eccoci qui, come sempre, per salutarci, per dirci quanto ci vogliamo bene, per dirvi quanto vi voglio bene e per rassicurarvi che siete sempre nelle mie preghiere. Oggi vi voglio affidare un'intenzione particolare. C'è una suorina che ha un po' di anni, ma è ancora giovane, ha 90 anni, suor Bianca Vitolo di Napoli, che mi conosce e mi segue fin dalla mia ordinazione, quindi all'incirca ormai 16 anni, e tutti i giorni è con me e con noi. Lei ha un desiderio nel cuore a maggio andare alla canonizzazione del suo fondatore. Accompagniamola in questa richiesta. È una richiesta bella perché lei ha dato la vita per Gesù, seguendo questo carisma particolare, e quindi è bello anche poter pregare per queste anime consacrate che sono dedicate alla vita dei sacerdoti. E poi grazie, grazie a tutti coloro che lo hanno già acquistato. Siete stati tantissimi, grazie a chi l'ha letto, grazie ai tanti messaggi. Aiutiami a credere. Correte nelle librerie, se lo volete, per prenotarlo e acquistarlo, oppure sul sito www.taueditrice.com Ma adesso dobbiamo però affidare la giornata a Gesù e a Maria. E lo facciamo segnandoci con il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci ritroviamo alle 17.20 per il Rosario e la Messa. Un bacio, forza, avanti tutta, non mollate mai.